Ultimo mese di smart working con i criteri eccezionali dovuti alla pandemia. Col cessare dello stato d'emergenza, quindi dal primo aprile, verranno meno le deroghe che erano state stabilite dal governo per incentivare il lavoro agile e arginare il contagio da Covid-19. Si tornerà quindi all'obbligo dell'accordo individuale tra azienda e dipendente per ottenere il lavoro agile e spariranno le deroghe anche per i lavoratori fragili e disabili. Così, mentre ci si avvia un lento ritorno alla normalità, emergono i dati sullo smart working. I numeri sono quelli del sistema informativo Excelsior, elaborati da Union Camere, diffusi dalla Camera di Commercio del Molise. Nella piccola regione, la percentuale di imprese che ha investito in smart working è aumentata sensibilmente. Da circa il 27% tra il 2016 e il 2020, si è passati al 37% nel 2021, dato in cui va considerata anche la grande incidenza del settore della pubblica amministrazione. Si nota poi il boom in settori quali altri servizi alle imprese e alle persone, col 39% più 20,2 punti percentuali rispetto al periodo precedente. E in merito al lavoro agile c'è la proposta di Micaela Fanelli, mettere sul tavolo incentivi per tutte le aziende, molisane e non, che vogliano impiegare tra le proprie file ragazze e ragazzi residenti in Molise. Questo può essere una grande opportunità se c'è la banda larga e quindi le connessioni. Venerdì ne parleremo a uno specifico seminario organizzato da Ali, proprio qui a Campobasso. E quando c'è la connessione si può lavorare da casa per i servizi, per i servizi innovativi, informatici, per le consulenze, per un mondo che è il futuro. Allora il Molise deve dotarsi di una legge e questo è il mio monito, anche la mia spinta, una legge che valorizzi lo smart working, che finanzi le imprese che da fuori del Molise assumono ragazzi per un periodo buono, lungo, dai nostri territori. Questa è la scommessa. Con pochi soldi riusciremmo a fare un numero elevato di nuova occupazione, a vantaggio delle imprese, a vantaggio dei lavoratori, a vantaggio dei nostri piccoli comuni e delle aree interne. È un modo per sbloccare il nostro primo problema che è lo spopolamento.